Sai che c'è di nuovo alle grange? Sabato 17 maggio, dalle 17, arriva il protagonista della serie TV, l'ispettore Cogliandro, il bellissimo Giampaolo Morelli. Domenica 18 maggio, l'estate si scopre, in galleria sfilata delle nuove collezioni di intimo e costumi proposte da Yamamai e Golden Point. La scelta e il divertimento giusti per tutta la famiglia ti aspettano alle grange. Un grande ipermercato per una spesa conveniente e di qualità. 7 megastore e 50 negozi specializzati per il tuo shopping. Centro commerciale Le Grange a Piedimonte San Germano, aperto tutti i giorni, domeniche comprese. Shopping, con più emozioni.